Fullerton Airways, ti ricevo a porte e chiaro. Fullerton Airways, se la vendessimo basterebbe estinguere l'intero debito. Concludi l'operazione. Mandano qualcuno per un'ispezione. William. Dana. Lei deve essere l'assistente del signor Random. Capo pilota in realtà. Metti la cintura. Scusa, non so dove mettere le mani, ovunque le metta rischia di... Tienile giù e basta. Esatto. Fullerton Airways. Anche meno. Tu invece, Will, tu e tua moglie avete qualche attività. Io sono single. Interessante. Dove lo trovo il tempo per uscire con qualcuno? Se ogni tanto non metti i piedi a terra, la vita finirà per volarti accanto. Questa l'hai provata, vero? Sì, allo specchio. Sta attento a non affezionarti troppo. Quindi chiudi quel baraccone e prendi il primo volo. La gente come te se ne infischia di noi. Ti insinui come un lombrico, giochi a fare il turista in vacanza. Ragazzi, il ciclone sta arrivando. Te lo prometto, sistemerò ogni cosa. Se vuoi che una cosa sia fatta, falla per conto tu. Dove altro si può desiderare di essere? Questo era l'ultimo posto in cui avrei voluto essere. Ora non vorrei più partire. A volte il modo migliore per poter andare avanti è tracciare una rotta diversa. A casa non ne vedo mai così.